La Galleria Rizzomi nasce nel 2010 per volontà di Caterina Nizzoli e mia. Caterina è storica dell'arte, io sono sociologo. Dopo poco che ci siamo conosciuti, la galleria diventa il nostro progetto di vita. Caterina aveva passato un periodo dell'università per la tesi di laurea a Parigi ed era passata da una galleria con cui l'aveva messa in contatto l'università alla galleria Christian Berst. La galleria allora era molto molto piccola, ma ovviamente l'Arbrut non si studiava in Italia e quindi quello era stato assolutamente il suo primo fortunato e fortuito approccio con l'Arbrut. La giornata a Caterina, essendo di Parma, è stata abbastanza facile conoscere da Libia anche a Tosati e lavorare insieme su alcuni progetti, conoscersi e comunque avere una guida per l'ulteriore approfondimento e comprensione di quest'arte. In poco tempo Caterina quindi fonda per l'Asl di Parma e della comunità montana a Fornovo l'atelier Sfodelo. Quindi la galleria Rizzomi apre nel 2010 come progetto specifico per fare conoscere l'Arbrut in Italia. Tecnicamente non si trattava della primissima galleria a occuparsi di Arbrut. C'era già stata infatti l'esperienza degli amici Paola e Alberto di Verona che venendo da una galleria etnie che si occupava di arte tribale, di arte africana e avevano fatto un esperimento di una galleria chiamata Fuori Norma collaborando allora anche già con Silvana Crescini, Elzegna da Rosi, Bianca Tosati e avevano fatto per esempio Art Verona e alcune altre mostre come una dedicata a Pietro Ghizzardi. Il progetto però si era concluso in brevissimo tempo dopo il quale si sarebbero concentrati esclusivamente sulle forme di arte diversa. Quindi quando io e Caterina abbiamo deciso di fare questo progetto non c'era niente in Italia dal punto di vista galleristico. Non c'era niente dal punto di vista galleristico ma non c'era niente neanche in termini di esposizione di esposizioni permanenti. La Tinaia aveva fatto delle mostre importanti, c'erano state naturalmente le mostre di figure dell'anima oltre alla ragione per dire c'era il lavoro continuo di Daniela Rosi ma non c'era un'esposizione permanente dedicata all'arbrut o forme d'arte analoghe o avvicinabili che fosse sempre fruibile per il pubblico. In ogni caso anche dal punto di vista europeo allora nel 2010 ripeto si contavano davvero poche gallerie, se ne potevano davvero contare due in Francia, due in Svizzera, poi molte sarebbero sorte successivamente ma c'erano davvero poche realtà anche solo dal punto di vista commerciale che si occupavano di queste forme d'arte specifiche. Quindi abbiamo deciso di fondare la galleria. Oggi sono rimasto sostanzialmente io da solo, mi occupo della parte commerciale. Caterina ha preferito ritornare ad occuparsi di progetti riabilitativi e di creatività per persone provenienti dal mondo della fragilità psichiatrica. Abbiamo quindi fondato nel 2016 con alcuni altri amici, Cristina Calicelli, Saru Golini, Giuliano Tosi, Chiela d'Acquisto, Gloria Marchini. L'associazione Artetipi è diventata poi un'APS, un'associazione di promozione sociale e oggi Caterina si occupa sostanzialmente di questo, mentre io continuo a portare avanti i progetti. La Galleria nasce col preciso intento di portare e fare conoscere l'arbruto in Italia e fin da subito lo facciamo attraverso due movimenti contropposti. Da un lato portiamo alcuni dei grandi classici italiani come Zinelli, Giovanni Battista, Podestà all'estero e dall'altro portavamo alcuni classici minori, Paul Duem, Donald Mitchell, giusto per citarne alcuni che hanno rappresentato le nostre prime mostre in Italia. Ci siamo accorti presto, tuttavia, che di questi due movimenti, mentre uno aveva senso, era efficace, funzionava, dava delle soddisfazioni, l'altro era molto meno efficace. Era molto meno efficace perché non c'era in effetti un'attenzione specifica generata su forme d'arte diverse da quelle professionali, se non andando in forme di creatività che avevano più a che fare con il sociale e quindi meno con l'arte propriamente intesa. Allora probabilmente ancora non lo sapevamo, poi nel tempo avremmo capito che la difficoltà sta precisamente nel fatto che in Italia non sembra esserci una grande attenzione per forme di arte contemporanea, intendendo con questo termine arte fatta adesso, che non siano l'arte contemporanea con la A e la C maiuscola, cioè l'arte delle grandi fiere, di Art Basel, per dire l'arte dei grandi musei. Non c'è la stessa elaborazione, la stessa ricezione, che c'è invece in Francia, per esempio con la Creazione Francia, con l'Arbrut, con l'Arsingulier, nella parte svizzera dove si parla francese ma anche dove si parla tedesco, che aveva avuto appunto l'elaborazione di Prinzhorn, di Morgenthaler, appunto Germania e svizzera tedesca. Non ci sono questo tipo di attenzione. Come d'altra parte non c'è per esempio per il fumetto, per altre forme diverse di creatività. Come d'altra parte non c'è un'elaborazione in termini artistici del fumetto, della graphic novel, dell'illustrazione e un'attenzione che invece c'è in altri paesi europei e mondiali. Quindi apriamo noi il 2010 e abbiamo fatto da subito alcune mostre di artisti internazionali, minori, come Paul Dueme, Donald Mitchell, Creative Grotter Center, Royal Robertson, che vedete per esempio ancora alle mie spalle, Daniel Johnston, ma anche August Valla di Gugging, Raisen Bauer, sempre di Gugging. E abbiamo fatto alcune mostre invece oggettivamente pionieristiche di artisti italiani. Quindi ricordo quella dedicata a Giovanni Battista Podestà, già nel 2011, secondo me, quella dedicata a Davide Mansueto Raggio, pochi anni dopo, quella dedicata alla riscoperta di un classico che aveva già avuto tra l'altro un articolo su Rovigio, come Marcello Cammi. Il catalogo dedicato a Davide Raggio raccoglieva tutto ciò che era stato scritto su Davide Raggio fino ad allora, è stato anche tradotto in francese. Dopo queste esperienze abbiamo fatto altre mostre più leggeri, in un qualche modo, che però ci hanno permesso di esplorare, di lavorare sempre in termini curatoriali o, per conto nostro, coinvolgendo altri esperti. Cito per esempio la mostra Santi Martiri Eroi, dedicata a Daniel Johnston, Giovanni Galli e Royal Robertson. Cito la mostra Arbrut Bandesinè, dove si raccoglievano autori che nell'ambito dell'Arbrut viaggiavano sui canoni del fumetto, insomma, anche allora avevamo chiesto un bell'articolo a Matteo Stefanelli. Abbiamo fatto la mostra dedicata alle scritture, scritture automatiche con la curatela di Martina Corniati, avevamo Cicchia di Anì, Anne-Marie Gibindun, che per esempio nel 2020 sono stati inclusi nella mostra Scrivere Bisognando di Curata Andrea Bellini a Ginevra. In questo proposito, parlando di scritture automatiche, non possono ricordare la fortuna che abbiamo avuto nel tempo di lavorare con ragazzi più giovani e molto entusiasti che venivano a chiedere di fare un periodo di prova, o a un periodo di stage nella Galleria Rizzomi per conoscere quest'arte. Quindi Marta Spagnorello dall'Università di Torino, che oggi collabora con la collezione della Brut di Lausanne, ha scritto un bel assaggio su Carlo Zinelli o Giordano Catalano della Università Bocconi, che poi ha fatto tutt'altro. Ma poi abbiamo comunque continuato a collaborare anche con l'Università di Parma e con altre istituzioni. Questa è la nostra storia fino al 2016. Nel 2016 succedono delle cose importanti. In primo luogo perché decidiamo di rilocalizzarci a Parma. Dietro questo movimento ci sono sicuramente delle ragioni di famiglia, è innegabile, nel frattempo di Caterina avevano avuto due bambini. Ma ci sono anche delle ragioni tecniche legate specificatamente al lavoro. Queste ragioni cominciano a mostrarsi a partire dal 2013, cioè quando cominciamo a fare la prima edizione della Outsider Art Fair a Parigi, a cui poi aggiungiamo New York. Poi abbiamo avuto la possibilità di fare alcune mostre importanti come Artissima ed Arte Fiera. E insomma comprendiamo che il lavoro per una piccola galleria che non abbia un radicamento sul territorio e con conoscenti in termini di collezionisti, di amici, come succedeva quindi a noi, perché ci eravamo spostati appunto da Parma a Torino, il lavoro commerciale è quasi esclusivamente in fiera. E in tal senso non aveva molto importanza stare da una parte o dall'altra. Quindi per questa ragione decidiamo di rilocalizzarci nella nostra città di origine che è appunto Parma. Nel 2016 quindi ci trasferiamo a Parma e insieme a questo cambiamento ve ne sono almeno altri due. Uno, quello già ricordato dell'apertura dell'associazione culturale Artetipi che segna un cambio di ordio organico all'interno della galleria, come appunto già detto da un lato. Ma dall'altro lato anche l'apertura della galleria Rizzomi che era nata esclusivamente come galleria di Herbrut ad altre forme di arte contemporanea. Dietro questa scelta ci sono delle ragioni ancora una volta diverse, ci sono ragioni diverse, ci sono delle ragioni pragmatiche in un qualche modo, cioè legate al fatto che essendo così poco nota, così di nicchia l'Herbrut in Italia, lavorare anche con artisti contemporanei che hanno espresso un interesse o un particolare affinità, ma non affinità in termini estetica artistica, affinità in termini di sensibilità verso le forme di Herbrut permetteva di avere più movimenti in galleria, più flussi, più ragionamenti, più discussioni anche dal punto di vista intellettuale. E dall'altra era una ragione specificatamente intellettuale a cui appunto siamo arrivati nel tempo. Nel tempo abbiamo infatti avuto la possibilità di confrontarci con temi importanti scrivendo, scrivendo per la rivista dell'Osservatorio di Outside Art di Stefano di Palermo, scrivendo per il catalogo irregolare di Daniela Rosi, scrivendo per la retrospettiva dedicata a Ezechiele Leandro. Decidiamo quindi di aprire la galleria anche a forme d'arte e non esclusivamente di Herbrut. La ragione teorica consiste grandemente con il fatto che credevamo che mentre avesse un senso quando De Buffet ha condotto la propria elaborazione, la propria teoria nel secondo dopoguerra a contrapporre dialetticamente come due poli completamente opposti l'arte contemporanea che lui allora vedeva con l'arte anti-accademica, non-accademica, l'art brut, insomma, oggigiorno non si potesse più, oggigiorno non si può più, non si possa più, diciamo così, includere in questi soli due poli dialettici tutte le forme d'arte che vengono in effetti realizzate e condotte all'interno della nostra società. Cioè nel postmodernismo non ha più senso parlare di due forme d'arte esclusive o mutuamente esclusive e competitive. Ecco, anche quando De Buffet nell'ultima parte della sua elaborazione parlerà, non sarà più così rigido nella separazione, parlerà appunto di andando più verso un'idea di continuum tra le due forme d'arte, comunque sono queste due forme di arte che lui ha in mente. Ecco, invece nell'arte contemporanea e nella società contemporanea attuale se ne scontrano, se ne confliggono tante altre forme d'arte diverse. Abbiamo la street art, abbiamo l'arte proveniente da paesi non occidentali, abbiamo molte altre forme, insomma, di arte e i due poli Art Brut e Arte Accademica semplicemente non li non le includono tutte. In questo senso, quindi, abbiamo deciso di concepire l'Art Brut come una ricerca l'Art Brut in termini di De Buffettiani come una ricerca sui confini dell'arte perché di fatto questo aveva fatto De Buffett aveva avuto successo nell'introdurre nell'arte contemporanea qualcosa che semplicemente prima non era riconosciuto come arte contemporanea in questo senso non aveva fatto qualcosa di molto diverso da Da Duchamp per esempio o da tutti gli altri grandi artisti che gli erano preceduti nello studiare nel cercare di capire appunto l'elaborazione di De Buffett e il rapporto con la con la società e con l'arte contemporanea mi sembrava di rivedere un po' quello che avevano elaborato è detto i cultural studies tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 rispetto alla tradizionale elaborazione marxista cioè che il cioè che non si potesse più che non avesse solo senso contrapporre la borghesia al proletariato perché all'interno del proletariato comunque l'esperienza di un maschio bianco occidentale operaio è diversa da quella di un maschio bianco operaio occidentale gay e questa è a sua volta diversa da quella di un maschio nero occidentale gay o non gay che è a sua volta diversa da quella di un'operaia lesbica oppure nera ecco vi sono troppe variazioni nella società contemporanea che polarizzano delle differenze importanti e che non possono essere risolte esclusivamente mediante una contrapposizione tra due soli tra due soli opposti quindi quindi il lavoro della galleria Rezzomi diventa un lavoro su quelli che sono appunto i confini dell'arte contemporanea quindi la scelta degli autori nel mondo dell'arte contemporanea non art brut avviene proprio avendo in mente questo concetto quali sono quelle ricerche artistiche che segnano che parlano che discutono che mettono in questione i confini dell'arte contemporanea sono questi gli artisti che noi abbiamo deciso di importare poi di trattare come galleria tornare all'arte contemporanea permette cioè tornare a confrontarsi con l'arte contemporanea permette tra l'altro di individuare alcune criticità all'interno della riflessione sull'arbru su cui forse non si è non si è riflettuto non si è ancora detto detto abbastanza per me quella principale è relativa al fatto che se ogni volta in cui noi studiamo l'art brut ci riferiamo a delle condizioni esistenziali specifiche del suo autore ok quindi come dice Lucien Ferri il silenzio la solitudine questi elementi di posizione della creazione ecco ci allontaniamo dall'arte contemporanea generalmente intesa perché nella critica d'arte contemporanea cioè nella critica dell'arte contemporanea questi elementi hanno pochissima se non nessuna importanza io ritengo quindi oggi che sia necessario sia primariamente necessario studiare l'art brut esattamente come si studia l'arte contemporanea cioè coinvolti e confrontati con le singole produzioni tutte diverse tutte specifiche dei vari autori dobbiamo cercare di comprendere perché inseriamo quegli autori e quelle produzioni nell'ambito dell'arte contemporanea cioè perché le troviamo interessanti perché le troviamo significative allora andiamo a riferirci a condizioni di contesto e non più a condizioni essenzialiste esattamente come fa la critica d'arte tradizionale se si procede in questo modo allora rineiamo e possiamo confrontare sullo stesso piano arte contemporanea e art brut mentre invece se continuiamo a riferirci a condizioni specifiche degli autori art brut e arte contemporanea rimangono per sempre separate per sempre di commensurato che può essere comunque un'intenzione può essere una decisione che qualcuno può piacere più grave però dobbiamo avere tutto in mente tutto chiaro che è una decisione non è una faccenda necessaria si possono fare le cose anche in alcun modo grazie